Innanzitutto saluto come commento Giacomino Nutritivo, Fran Gamer, Renato Bubecu, Rosella Di Costanzo, Pippi Margiotta, Kadri Zepa, Amsa Legda, Paolo Giu 15, Marco Carli, Joe Doug, Salvatore Frino, Kpb Momo E vi ricordo di mettere Joe 12 Pro nel supporto a un creatore! Bella a tutti ragazzi bentornati in un nuovissimo video ma innanzitutto andiamo nel negozio oggetti Forza caricati! Beh non si carica, aiuto Ecco andiamo subito nel supporto in creatore a mettere Joe 12 Pro in 5 secondi 1, 2, 3, 4, 5! E ovviamente una volta che accettate Guardate qualcosa dovete shoppare tutto Dovete shoppare tutto Guardate Aculeto, Suki, Pugni della Forza Tutte queste skin da più di 2000 V-Bucks Vabbè vi consiglio raga di shoppare con il mio supporto a un creatore Joe 12 Pro signori Tra poco è anche il 6 Quindi Befana, tutte queste cose raga Mi raccomando shoppate tutto Oggi che video è questo? Probabilmente come titolo ci sarà scritto Challenge, mangio qualcosa tipo Una chilo, mangiare, una qualcosa Vabbè, vabbè, ve lo dico Una croccantella Sì vi spiego perché oggi mangeremmo una croccantella per ogni kill Partiamo da oggi Io stamattina Mattinata Ho visto il secondo canale di Capitan Blazer che già conoscevo Che ha pubblicato un video Quello con la bambina Quello della figlia diciamo Ok tra parentesi figlia Anche se era tutta comunque una cosa ironica E comunque ho trovato l'ispirazione Vi spiego Adesso ve lo devo spiegare tutto Un attimo Adesso ci spostiamo un attimo sul video Il video in questione è questo Da che ha preso ispirazione appunto delle croccantelle per Fortnite Adesso vi spiego Questo è Caosos Non lo conoscete Vabbè, dai per forza Se parliamo di Fortnite Lo conoscete Allora, abbiamo un attimo Vi spiego qual è stata la parola Che mi ha dato aiuto Per questo... Cioè, mi ha dato l'illuminazione raga Dobbiamo farla diventare una nave Ma aspetta aspetta Raga, trovo il pezzo e ve lo faccio sentire subito Strano, lo trovo Aspetta aspetta Non l'ho mai stata Io non l'ho mai visto Questa bambina Mi ha picchiato di nuovo L'avete vista Ok Ehi, mi dispiace ma non mi ha ancora preparato il mangiare Aiuto Aiuto Sentitela di nuovo un attimo Ehi, mi dispiace ma non mi ha ancora preparato il mangiare Aiuto Allora ho detto L'ho preparato il mangiare Prepareremo Un bel coso Un bel coso sostanzioso appunto di mangiare Mi è venuta l'illuminazione Adesso torniamo su Fortnite Vediamo se riesco a prendere Il mangiare Il mangiare nutritivo Il mangiare Signori, eccoci qui pronti per fare una bella singola Ovviamente per ogni kill Si, avete capito bene Mangiamo una di queste Si chiamano croccantelli Ovviamente non c'è la marca Perché non mi hanno pagato per sponsorizzarli Ecco Non ho neanche avviato Sono proprio un babbo Comunque signori Vediamo di mangiare poco Che qua I calorie salgono Signori Paracadute sulle spalle E mangiamo nutrizionalmente Perché non mi hanno ancora preparato Il mangiare Vediamo un po' se c'è qualcuno Si, siamo a 98 Ne mancano praticamente due Allora io devo scendere in un punto molto particolare Ma scendiamo a corso commercio In fondo scenderanno tutti Si raga scenderanno tutti Infatti già mi sto per mettere I mani dei capelli Questi capelli nutritivi Bene Vediamo di scendere Mori tu Ovviamente raga Io muoio subito Una seconda possibilità Ce l'abbiamo D'altronde nella vita Tutti abbiamo Va beh Due possibilità Va beh Non è proprio così Però si Signori ecco qua sotto corso commercio Non vedo l'ora di mangiarmi tutto questo bel pacchetto sostanzioso Ovviamente facciamo così Una kill Una croccantella Però se vinciamo la partita Il pacchettino è tutto per me Vediamo di atterrare subito in una casa gialla Ok player ci sono Però Non mi fate sentire Per favore Prima che veramente vi dico due di quelle parole Che veramente raga Muoiono solo a vedermi Vediamo se c'è subito un'arma Un bello tattico nutritivo Aspetta che lo metto di qua poi Ok abbiamo questa semplice bombette Un altro tattico Che ovviamente prendiamo così Poi gli altri non Non prendono l'arma E mi uccidono Vediamo cosa c'è qua dentro raga Niente Non c'è un bel niente Quasi quasi una kill Me la faccio subito Così rischiamo Almeno una croccantella Me la mangio Signori mi raccomando lasciate un bel like Per questo video Non ve l'ho ancora chiesto Quindi mi raccomando raga Like iscrizione e tutto il resto Vediamo cosa c'è qua dentro Ah una semplice R Aspetta raga Proviamola Proviamola Sento sparare Provo eh Player Easy Easy signori Una croccantella Adesso me la mangio eh Aspetta camperiamoci Che Raga nascondiamoci subito Che una me la devo incassare Aspetta Adesso me la prendo Allora ci mettiamo qua sotto Ovviamente Il pacchetto nutritivo Lo andiamo a prendere Guardate raga Una croccantella Deliziosa A gusto ketchup Buonissima Adesso mi sentirete masticare Nutrizionalmente Perché non mi hanno dato di mangiare Non abbiamo visto ancora nel soffitto Vediamo cosa c'è sul soffitto Qua vediamo eh Vediamo Non c'è niente raga Pensavo di trovare almeno un player Oh qualcuno ha preso l'auto Ha preso il motocarro bicolore Dov'è dove dove Aiuto Guarda guarda Provo È impossibile raga Non è che sono ninja Ci ho provato È impossibile È riuscito a scappare come un pollo sostanzioso Ne abbiamo un altro che però Sta facendo il giretto Guarda guardalo Guarda guardalo come fa il giro Guarda 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 Oh io ho fregato l'auto Il taxi Ti ho fregato il taxi Era dentro Uoooo Nooo Però abbiamo una seconda possibilità ovviamente Let's go raga andiamo Let's go signori Perché dobbiamo prendere il mangiare Eccoci signori Finalmente dopo tanta attesa siamo tornati Già c'ho la guolina in bocca Perché con la croccantella di prima sapete com'è Quando ne prendete una Ma questo anche con le patatine Quando prendete una cosa salata Poi ne volete un'altra Cioè una tira l'altra in pratica Però ovviamente il gusto dobbiamo metterlo da parte E stavolta raga dato che Veniamo da questa zona Io scenderei a parco pacifico Poi non lo so Entriamo nel parchetto Per prendere croccantelle nutritive Perché ci hanno dovuto prendere In mangiare Brutus ma non mi rompere Brutus ma vai a casa a dormi va Vai a casa a dormi Ma vai a casa a dormi Brutus Signori Ottimo Adesso ci buttiamo subito Perché voglio arrivare tra i primi Già c'ho un'occolina in bocca Devo guardare questo pacchetto aperto Aiuto E poi c'ho anche Lionio qua Però questo lasciamolo dormire Era di quel video la raga di Lion Comunque Stiamo arrivando a parco E devo prendere una bell'arma Perché già verranno raga Ma saremmo circa una ventina Meno 20 persone Diamo un'occhietta proprio veloce Non vedo nessuno Sì ci sono 2, 3, 4 Vabbè 4, 5 Che stanno Speriamo di trovare qualche arma Perché così adesso C'è gente senza armi raga Sfruttiamo la situazione No Dovevo prendere la R E la R E la K Non mi ricordo più niente Tra un poco Poi non ve l'ho detto Ma questa è la seconda partita del giorno Possiamo dire anche la prima Perché prima abbiamo fatto una kill Ma era easy Quindi raga Apriamo subito la casseruola Vediamo cosa c'è dentro Un bello tattico signore La fiocci L'abbiamo tutto Tutto abbiamo Non ci possiamo lamentare di niente Ah in realtà Ci mancherebbe un cecchino Però quello possiamo tralasciarlo Vediamo se ci sono dei piccoli Player In questa zona Sì sì ci sono Guarda Lo sapevo Sto devo sta zitto Guarda guarda Uh Signori Adesso me ne mangio una Aspettate un attimo Non posso mangiarmela qua Aspetta 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 Non posso guarda Eh vedi Mi sta sparando l'altro Cacchio raga Devo scappare come un sostanzio Devo scappare raga Devo scappare Aspettate un attimo eh Ci vediamo appena Trovo un posto tranquillo Eccolo che ce lo mangiamo Il pezzetto qua E la croccantella Via Per l'acril di prima ovviamente Allora Mmm Buona Oh i bot Ci manca solo che mi uccidono Se mi uccidono in botte raga È finita aiuto Devo stare me zitto Zitto come un Pollo sostanzioso Non so perché mi viene sempre sto pollo Eh no raga Ma si accorgono adesso Ma ma Non so manco buildare Aiuto raga Qualcuno che mi insegna Eh dai eh Allora facciamo così Troppo tranquillo Vai Voto sotto Apriamo la casseruola signori Non troviamo così niente di interessante Ci sono solo delle cure che ovviamente ci facciamo Per arrivare a Cento di scudo Signori L'abbiamo fatto aiuto Ci sono i player però Sono potentissimi Cioè potentissimi Con otto di vita Con otto di vita Basta che mi tirano una Basta che mi tirano un cosino E muoio Cioè non è possibile Mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto Sono morto Sono morto raga Sono morto Non so per quale motivo Siamo ritornati a parco E io mi prenderei un tazzi Per scappare Player teoricamente Non ci sono più Perché come potete vedere Ma io gli tiro delle granate Se faccio kill buono Buono per noi raga Sto rischiando un casino raga Lo sapete anche voi Lo so anch'io Guarda guarda Mi ha visto Oh ma tutti missati i colpi Vabbè raga Ho missato tutto E dai Un corpo No 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 Questo no Non ti vuoi a te Sì vabbè più forte no? No mi ha sentito Ma andate a fanbrodo raga Ma è un coso sostanzioso Sono caduti tutti Vabbè raga Adesso vi metto alla prova Io devo far dieta Quindi aiutate Se questo video Supera gli 80 like Io non me lo mangio Però se il video Arriva a 79 Cioè da 80 in giù Io raga me lo mangio Quindi dovete metterne così Tante 80 raga ce la facciamo Se riusciamo ad arrivare a 100 Quindi se superiamo gli 80 Raga farò dieta Se invece siamo sotto gli 80 Vi do come tempo Vabbè Due giorni raga Ma sì ma ce la fate La mangerò Quindi raga superate Perché se no scoppio io Torniamo in lobby Perché è veramente È una cosa sostanziale Signori Ovviamente vi ringrazio Per la visione Soprattutto per non avermi Fatto mangiare le croccantelle Perché io sono un navo cronico Ovviamente raga La ragazzina lì chiara Non mi ricordo bene il nome Comunque In mangiare Andiamo nutritivi Sicuramente raga So che l'iscrizione L'avete lasciata con la campanellina Quindi raga mi fido Trovate il link Del canale viola In descrizione Quando posso Facciamo un po' il po' di live Ovviamente signori Like, iscrizione, campanella, commentino Raga bello sostanzioso Sapete che vi lascio tutti Un bel po' di like Che qui è il giova sostanzioso Ci vediamo raga Un prossimo video Mi raccomando cliccate Adesso vi lascio la scheda Bella Ciao